Bella azione, ci ho provato ed è andata bene. Hai anche un po' esultato, quindi ti sei lasciato non benissimo? No, 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 esultato perché è il primo gol stagionale, non mi capita tutti i giorni di far gol, quindi... Dimmi solo che idea hai avuto del Pescara oggi? No, mi hanno fatto una buona impressione, ho visto una squadra compatta, secondo me può far bene così.